Vedete come sono venuti, belli, carini, simpaticissimi, li faccio vedere da vicino, quanto è carino, ciao a tutti amici e bentornati come sempre in cucina con Raffi. Ragazzi oggi andremo a fare una buonissima ricetta per i bambini, sto parlando dei biscotti buonissimi ma soprattutto bellissimi e divertentissimi, specialmente per i bambini. Allora passiamo subito alla nostra ricetta, come già qui vedete ho 450 grammi di farina 00, adesso andiamo a inserire una bustina di vanillina, un cucchiaino di lievito vanigliato, 200 grammi di zucchero semolato, un cucchiaino di miele, poi andiamo a inserire 250 grammi di burro a temperatura ambiente, adesso dobbiamo inserire 4 tuorli, ovviamente senza l'alumone, una volta inseriti i tuorli ovviamente incominciamo a impastare, mentre stiamo impastando inseriamo un pizzico di sale e finiamo di impastare. Una volta che abbiamo impastato abbiamo diviso l'impasto in due parti, in una parte dobbiamo andare a inserire 30 grammi di cacao amaro, lo passiamo con un colino così non facciamo i grumi. Allora una volta che abbiamo impastato abbiamo fatto diventare il nostro impasto al cacao, adesso entrambi gli impasti li facciamo riposare per un'oretta in frigo. Dopo aver ripreso i nostri impasti, vendiamo l'impasto bianco e lo andiamo a stendere con un macchierello. Una volta che abbiamo steso l'impasto, come vedete mi sono agevolata un po', sono andata un po' avanti, ho preso una formina a cuore e sono andata a fare gli stampi. Dopodiché li ho messi in teglia con carta da forno, capovolti la punta verso su. Dopo aver formato i cuoricini con quello bianco, lo stesso procedimento dobbiamo farlo con quello nero, quindi stendere l'impasto e formare i cuoricini. Fatto questo andiamo a tagliare il cuoricino nero a metà, però non lo dobbiamo tagliare del tutto, la punta deve rimanere intatta. Allarghiamo e andiamo a ficcare dentro al cuore bianco e schiacciamo leggermente i bordi e così abbiamo formato il viso e le orecchiette del nostro bao bao. Allora ragazzi, una volta che abbiamo creato la faccina di bao bao con dei confettini colorati andiamo a formare degli occhietti, quindi andiamo a inserire, abbiamo formato gli occhietti, poi con un po' di cioccolato fondente, se avete le gocce di cioccolato ancora meglio, andiamo a formare il nasino. Creiamo tutti i nostri cagnolini in questo modo. Siamo pronti ad infornare i nostri bao bao a 180 gradi, forno statico per 20 minuti. Ebbene ragazzi, abbiamo sfornato i nostri biscotti per i bimbi bao bao e vedete come sono venuti, belli, carini, simpaticissimi, li faccio vedere da vicino, quanto è carino, bao bao! Scherzo come sempre, spero tanto che anche questa ricetta vi sia piaciuta, spero tanto di sì, sono simpaticissimi, per le feste dei bambini sono proprio ideali. Detto questo mi raccomando, spoliciamo la grande, bao bao, spoliciamo! E ci vediamo alla prossima!